ciao a tutti oggi prepareremo il pollo con rucola e pomodorini il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa gli ingredienti sono straccetti di pollo rucola pomodorini tagliati a pezzetti succo di limone farina sale pepe nero olio acqua e scaglie di grana andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo il succo di limone sul pollo e lo facciamo macerare per circa 30 minuti trascorso il tempo togliere il succo di limone infarinare gli straccetti e posizionarli nel varoma mettere il sale i pomodorini il pepe un filo d'olio mettere nel boccale l'acqua chiudere con il coperchio posizionare il varoma chiudere con il coperchio e cuocere per 25 minuti temperatura varoma velocità 2 aggiungere una parte della rucola e proseguire la cottura per 3 minuti temperatura varoma velocità 2 pollo è pronto impiattare servendono con il resto della rucola e le scaglie di grana pollo con rucola e pomodorini grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti